E' ancora l'offerta formativa degli istituti scolastici della città di Favara l'argomento del nuovo appuntamento con la rubrica settimanale di informazione Parliamo di. Nella puntata in onda a partire da domani domenica, ospite del professor Giuseppe Crapanzano, l'istituto professionale per i servizi alberghieri della ristorazione commerciale e turistici Gaspare Ambrosini. Nei nostri studi le docenti Rosalia Graceffa e Melina Mistretta, accompagnate da alcuni allievi, hanno illustrato alcuni dei progetti attivi presso la scuola di Viale Cechevara. Anche in questa occasione Parliamo di dedica uno spazio ai giovani talenti della musica con l'esibizione in studio della cantante agrigentina Giulia Bellavia. L'appuntamento con Parliamo di è fissato quindi per domani, dopo giorno dopo giorno, delle ore 13.55. La trasmissione andrà in replica il lunedì alle ore 18.15 circa, il mercoledì alle ore 23.10 e tutti i martedì, giovedì e sabato alle ore 12. In questo giro di interviste che stiamo facendo alle varie scuole stiamo vedendo di coinvolgere un poco tutti. Per che ognuno nel proprio grado di scuola o nelle loro specificità possa dire le loro qualità quali sono, le loro programmazioni, le loro attività. E abbiamo visto che addirittura l'Ipsarchit o l'alberghiero, così come l'istituto, il liceo scientifico, hanno avuto addirittura la possibilità e hanno programmato di portare i ragazzi addirittura fuori d'Italia. Quindi a livello europeo. Questo vuol dire che la scuola è una scuola aperta, che non è più racchiusa entro le quattro mura, che non si studia più quel programma che era una volta, ma che ormai la scuola è aperta e naturalmente questo è fondamentale per la formazione dei ragazzi.